26 lavoratori senza stipendio da tre mesi, più di 100 pazienti assistiti a domicilio tra Giulianova, Mosciano e Bellante e la richiesta di intervento da parte di tutte le istituzioni coinvolte, regione compresa. Al centro dell'attenzione però resta la cooperativa Gora Toscana, reputata responsabile, diretta, della situazione che oggi ha portato ad un sit-in di protesta sotto i palazzi dei tre comuni coinvolti. Noi abbiamo chiesto al prefetto di intervenire, abbiamo fatto due riunioni in prefettura, dove non si è raggiunto un accordo. Stiamo protestando contro gli enti, contro i comuni, contro l'ambito sociale, contro la regione che praticamente deve dare diverse pensilità anche alla cooperativa, però la cooperativa non può nascondersi dietro al fatto che gli enti non pagano affinché loro non pagano gli stipendi perché hanno partecipato a un bando dove comunque loro sono obbligati a pagare gli stipendi a prescindere dagli enti che pagano le fatture. L'opera prestata dai lavoratori è di assistenza domiciliare ad anziani e diversamente abili, contratti part-time che arrivano a 12 ore settimanali, stipendi da 500 euro, che secondo i sindacati non possono rappresentare un peso né per gli enti locali né per un governo nazionale. La cooperativa non paga perché gli enti non pagano, gli enti non pagano perché la regione non paga, la regione non paga perché lo Stato non dà i finanziamenti, poi alla fine però a pagare sono i lavoratori e stiamo parlando di stipendi di 500-600 euro al mese. Se uno Stato non è in grado di garantire stipendi di 500 euro al mese, io credo che siamo messi molto male.